Musica Benvenuti al telegiornale oristanese. Nel comune di Oristano va avanti la protesta degli arancioni. Sentiamo i dettagli nel servizio. Protestare e manifestare è un diritto di ogni cittadino, nessun spazio alla violenza. Non siamo in Francia ma in Sardegna, per essere precisi a Oristano. Fa discutere la protesta degli arancioni. Nel dettaglio alcuni dipendenti del comune oristanese hanno deciso di indossare un nastro arancione per esprimere il proprio disaccordo contro l'applicazione del contratto decentrato che prevede l'applicazione di un'indennità per i vigili urbani di 4 euro, cifra ritenuta eccessiva. Proprio nei giorni scorsi, dopo varie controversie, c'è stata la firma dell'accordo da parte di CISL e UIL. Si sono invece dissociati la CGL e la maggioranza della RSU. Il contratto è di fatto valido, ma i dipendenti non sono per niente d'accordo. Da qui la decisione di manifestare la loro disapprovazione. In Regione si chiede di fare chiarezza sulla questione dei rifiuti di Magomadas sollevata dall'esponente di Unidos, Mauro Pili. Sentiamo. Un presunto sversamento di rifiuti fognari provenienti da altre regioni italiane e interrati nella piana di Magomadas, in piena campagna, è stato denunciato da Mauro Pili. Il caso deve arrivare in consiglio regionale, dichiarano i consiglieri Daniele Cocco e Eugenio Lai, presentando una mozione. È una vicenda inquietante, commenta il consigliere pentastellato Alessandro Solinas. Ciò che denunciano gli abitanti della zona dell'Oristanese, stanchi di dover sopportare soffocanti miasmi e preoccupati dal continuo via vai di camion provenienti dai porti di Cagliari e Olbia, deve trovare una spiegazione. Sembrerebbe si tratti di residui fognari che arrivano principalmente da Puglia e Campania e che andrebbero smaltiti a norma di legge all'interno di appositi impianti certificati e non trattati in assenza delle apposite vasche in cemento, ovvero pericolosamente riversati in una buca profonda non meno di due metri a contatto con il terreno. La Sardegna è già balzata alle cronache per aver smaltito rifiuti speciali pericolosi, ricorda Alessandro Solinas, tra cui fanghi di depurazione provenienti da altre zone d'Italia. A fine 2018 la Procura di Tempio ha notificato l'apertura delle indagini al Cipnes per la discarica di Spiritu Santo. La regione Sardegna è al corrente del rischio che si sta correndo, si chiede il consigliere Solinas, che ha presentato un'interrogazione sottoscritta dai colleghi Desiree Manca, Roberto Ligioi e Michele Ciusa, con l'appoggio dei portavoce alla Camera dei Deputati, Lucia Scanu, Luciano Cadedu e Alberto Manca, per chiedere che venga fatta assoluta chiarezza su questa vicenda sconcertante. Un ristoratore dell'Oristanese è finito nel mirino della Guardia di Finanza, che durante un controllo ha scoperto cinque lavoratori in nero. Sentiamo. Continua l'azione di contrasto al lavoro nero da parte dei militari della Guardia di Finanza di Oristano, per contrastare il fenomeno dell'evasione in materia previdenziale e contributiva, legati allo sfruttamento dei lavoratori dipendenti assunti irregolarmente all'evasione fiscale. Nel mirino dei finanzieri, stavolta un noto ristorante e pizzeria della provincia, nel quale sono stati impiegati cinque lavoratori senza regolare assunzione. L'attività ispettiva è stata condotta dai militari della sezione operativa volante, che hanno contestato all'amministratore della società le gravi inadempienze, che hanno danneggiato prima di tutto i dipendenti stessi, poiché costretti a lavorare senza alcuna tutela legale, in materia di lavoro e senza alcun riconoscimento ai fini pensionistici, e poi ai danni dello Stato italiano per la conseguente evasione contributiva. Dal controllo ancora in corso per la quantificazione delle imposte evase sulla retribuzione dei dipendenti, sono derivate pesanti violazioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento della sospensione immediata dell'attività commerciale e l'applicazione della maxi-sanzione. La multa sarà calcolata per ciascun lavoratore irregolarmente assunto, che nel caso specifico vanno da un minimo di 33.000 euro a un massimo di 66.000 euro. Violata anche la norma per il pagamento delle retribuzioni con denaro contante, che nel caso specifico ammontano a 20.000 euro come sanzione minima. Era una costante inevitabile in ogni periodo di forti precipitazioni, acqua non potabile nei comuni serviti esclusivamente dalle sorgenti di Bauno e Santomiali intorbidite dalle piogge. Quest'anno, grazie all'attivazione del nuovo acquedotto di Oristano, la criticità ha trovato una soluzione. Appena le analisi hanno segnato l'aumento della torbidità, i tecnici di Abanoa hanno proceduto ad attivare i sistemi di manovra che hanno invertito la direzione dell'acqua tramite un sistema di sollevamento. Le operazioni sono in corso e potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione. E proprio a causa delle forti precipitazioni segnaliamo diversi problemi in città. Allagamenti in particolare nella zona del Foro Boario e a Torangius. I vigili del fuoco stanno procedendo a liberare dall'acqua le cantine di diverse abitazioni. Ma cambiamo argomento. Sardegna, la protesta infinita dei pastori contro il prezzo del latte. Sentiamo. Mentre si apprestano le feste di Natale e in molte famiglie e in altri luoghi, la ricorrenza viene partecipata anche dei fronti ai presepi, dove il bambino Gesù è idealmente attorniato da un gregge di pecore. Spirito e aria di festa, quindi, ma non sarà così per le migliaia di pastori sardi, impegnati nell'avvertenza per ottenere un prezzo migliore per il latte prodotto. Un'avvertenza che agli inizi dell'anno ha raggiunto punte di asprezza destinati a riproporsi, se continua, la saga delle inadempienze. E in queste settimane, ad inasprire la situazione, non solo la notifica di centinaia di avvisi di garanzia per la partecipazione alle manifestazioni sulle strade quando si rovesciavano i bidoni del latte. Certo, in quei giorni di tensione non sono mancati anche alcuni episodi di intolleranza ristretti comunque ad alcuni casi. Per il resto, l'ottica deve essere quella di uno scontro sociale per rivendicare un diritto, ma così non è stato inteso e le procure interessate hanno inviato centinaia di avvisi di garanzia creando ulteriori tensioni all'interno della categoria. In ultimo, i 21 decreti penali di condanna emessi dal Tribunale di Nuoro ad altrettanti pastori di Lula che avevano preso parte alle manifestazioni del febbraio scorso. Salvatore Manca è il nuovo presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza. Vediamo. La Simeu, Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, ha un nuovo presidente. Si tratta di Salvatore Manca, direttore dell'Unità Operativa del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino d'Oristano, prende il posto di Francesco Rocco Pugliese che ha ricoperto la carica nel biegno 2018-2019. La Simeu rappresenta medici e infermieri che lavorano nell'emergenza territoriale, nei pronto soccorso e nelle strutture di medicina d'emergenza ospedaliere. L'Ordine dei Medici d'Oristano si congratula con il dottor Manca per la sua elezione. L'anima della società scientifica è rappresentata dalla formazione, dalla ricerca e dalla promozione di una corretta informazione sul mondo dell'emergenza sanitaria nazionale. Proprio in questi campi l'Ordine ritiene di poter lavorare ora ancora più proficuamente grazie al nuovo prestigioso incarico del dottor Manca, il quale certamente metterà a disposizione dei colleghi, come di consueto, la propria disponibilità e grande competenza, ha dichiarato il presidente Antonio Sulis. Sulla statale 131, 4 chilometri di strada sono un vero e proprio inferno. Sentiamo il perché. Sulla statale 131, 4 chilometri di strada sono un autentico inferno, in particolare se percorso di notte o nel caso di maltempo, quando la visibilità è ulteriormente ridotta e le due corsie di marcia diventano un tunnel pericoloso soprattutto per la velocità dei mezzi pesanti che creano dei veri e propri vortici d'aria trascinanti. Siamo nel tratto che scende dai tornanti di Santa Cristina, al chilometro 111, sino al chilometro 98 per il bivio di Millis e Baulado, quando finisce la deviazione, qui in salita verso la parte nord della statale. L'ANAS da mesi è impegnata in lavori di allargamento e consolidamento del tratto di strada a destra mentre si sale e a sinistra per quanti scendono in pianura. Lavori divenuti interminabili per la natura e complessità degli stessi, probabilmente anche per l'insorgere di difficoltà di natura tecnica e strutturale, forse non previste nella fase iniziale dei lavori, con il cantiere, che forse sarà anche chiuso in coincidenza con le feste di fine anno. I pericoli restano, diventano più evidenti e appaiono di modesta entità le segnalazioni e le misure di prevenzione poste in essere che andrebbero estese e rafforzate. Una copia in ceramica della Carta dell'Ovu accoglie in piazza Eleonora d'Arborea gli oristanesi e i turisti. Sentiamo i dettagli nel servizio. Simbolo della cultura sarda e oristanese in particolare, una raccolta di norme legislative in vigore nei giudicati sardi, la cui originaria promulgazione risale a Mariano IV tra 1345 e 1376, per poi essere rivisitata successivamente dalla figlia Eleonora. Sì, è proprio essa la Carta dell'Ovu. Molti non lo sanno, ma una copia è stata posizionata in una iuola ai piedi del monumento dedicato alla giudicessa, tra le due principali sedi della Municipalità oristanese, Palazzo degli Scoloppi e Palazzo Campus Colonna. Però niente fogli di carta da sfogliare, si tratta di un perfetto prodotto ceramico. Realizzata dal Laboratorio Ceramiche Manis, l'installazione vuole unire alcuni importanti simboli della città, hanno dichiarato il sindaco Andrea Luzzo e l'assessore Pupa Tarantini. Da un lato, nella piazza dedicata a Eleonora d'Arborea, vogliamo rendere a tutti immediatamente visibile l'opera giuridica per la quale da sei secoli ricordiamo la giudicessa arborense. Dall'altro lato, vogliamo proseguire il percorso di valorizzazione della ceramica oristanese, iniziato con il riconoscimento di città di antica tradizione ceramica. L'importanza storica, giuridica e sociale della carta del logo è stata sottolineata dal primo cittadino oristanese a Milano, nella sede del Sole 24 ore, in occasione dell'assegnazione a Oristano del premio Quale città più sicura d'Italia? Da ieri e per tutte le feste a Palazzo degli Scolopi, il presepe è realizzato dai bambini delle ludoteche comunali. Vediamo. All'interno del Palazzo degli Scolopi a Oristano è presente il presepe realizzato dai bambini delle ludoteche comunali. Per la sua creazione, già dal mese di novembre, sono stati organizzati i laboratori con l'utilizzo di materiali naturali e da riciclo. Ogni ludoteca ha avuto un compito preciso. In un'ottica di progetto diffuso e corresponsabile si è potuto condividere un unico risultato finale, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Carmen Murru. La ludoteca di San Nicola ha realizzato gli allestimenti urbani, quella di Via Satta, gli animali, la ludoteca di Sili, i personaggi, e quella di Donigala, la capanna con la Sacra Famiglia. Il piano di lavori rientra tra le attività previste dalla programmazione educativa delle ludoteche, in particolare l'educazione ai rapporti e l'attenzione ai temi dell'ecologia. Inoltre ha consentito di rappresentare al meglio il pensiero di pace, fratellanza, guaglianza, rispetto dell'altro e della natura dei bambini, dei ragazzi che frequentano le ludoteche, ha concluso Murru. Domani all'Hospice di Oristano esibizione del Popcore alle ore 20, un appuntamento musicale rivolto agli ospiti, agli accompagnatori e ai parenti, dei pazienti, oltre che agli operatori dell'Hospice, per far vivere loro il clima natalizio in un momento particolarmente difficile della loro vita. E' sempre domani, giovedì 19 dicembre, ultima giornata di Open Day dell'Istituto Comprensivo numero 3 di Oristano. L'incontro della secondaria di primo grado, grazie ad Eledda, in via Sant'Ulussurgio è provvisto dalle ore 16 fino alle ore 19. Ed è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Grazie a tutti.